E' appena finita la prima amichevole della stagione con la Rossella Civitanova, 4 quarti su 4 li ha portati a casa l'XL Extra Light, coach Carelli una buona prestazione oggi per iniziare l'anno. Sì, siamo ripartiti da dove avevamo finito l'anno scorso, cioè dalla difesa, anche se non abbiamo lavorato fino adesso su aspetti tecnici, difensivi, lo spirito, la voglia di difendere, la voglia di aiutarsi si è visto, dobbiamo migliorare su tante piccole cose ma è la prima amichevole, è tutto normale. Erano molto attesi i due americani, Powell e Corbett hanno fatto subito vedere grandi cose, quantomeno in attacco. Assolutamente, sono due delle nostre punte ma la cosa che mi è piaciuta di più e che sapevo già ovviamente è che cercano molto i loro compagni, vogliono giocare insieme ed è questa la strada che dobbiamo intraprendere. Come sono andati questi primi dieci giorni di preparazione? Dieci giorni tosti, siamo abituati dall'anno scorso ormai agli inceppi, abbiamo un piccolo infortunio con Campogrande, infatti aggregheremo da noi di un giocatore, quindi ringrazio pubblicamente la società che comunque mi mette a disposizione un giocatore esterno per tenere alta l'intensità degli allenamenti, dobbiamo solo resistere alla preparazione alle prime settimane in cui l'acido lattico fa male ai muscoli per poi arrivare al campionato. Ok, grazie Goci. A te.